Il notiziario di Senigallia Notizie, edizione di lunedì 6 di giugno, buon inizio di settimana a tutti quanti voi. Nella mattinata di venerdì 3 di giugno a Senigallia si sono verificati due incidenti che hanno coinvolto un giovane centauro finito all'ospedale dopo lo scontro con un'auto in via Capanna e un ciclista investito da un furgone lungo via Giordano Bruno. In entrambi i casi è dovuta intervenire un'ambulanza per soccorrere chi viaggiava sui mezzi a due ruote trasportandoli al pronto soccorso. Ancora pedone investito da un ciclista sul lungomare Alighieri di Senigallia, doppio trauma cranico, l'incidente nel tardo pomeriggio di sabato 4, due ambulanze sul posto e momenti di agitazione. Cooperando si vince il progetto all'istituto comprensivo Giacomelli di Senigallia insieme alla cooperativa Casa della Gioventù, un grazie specialissimo all'istituto che ha partecipato e vinto il progetto Crescere nella Cooperazione, progetto marchigiano di cooperative scolastiche finanziato da BCC di Fano perché ha voluto donare alla cooperativa Casa della Gioventù Onlus parte del premio ricevuto. Attraverserà Senigallia la quarta tappa dell'Adriatica Ionica Race. Nell'articolo del nostro sito i divieti e le limitazioni alla circolazione veicolare e pedonale nelle strade interessate alla competizione ciclistica di martedì 7 di giugno. All'istituto comprensivo Senigallia Sud Belardi è stata festeggiata la fine dell'anno scolastico con Beatles at School e i neri per scelta. Questo progetto che Paolo Molinelli ci ha presentato da un lato, il Beatles at School con le varie tappe di cui oggi si conclude con la tredicesima tappa, con il tredicesimo appuntamento e Beatles Senigallia nel 2022 ci abbiamo creduto, lo abbiamo sostenuto perché pensiamo che in questo caso la musica, la cultura, la storia con un appinamento e un coinvolgimento diretto delle scuole sia un fatto molto importante, molto concreto che fa crescere tutti, fa crescere i ragazzi, ci arricchisce tutti e ci dà un'energia, una spinta in più in questo momento dove abbiamo tutti bisogno di riprendere un po' una vita normale. I ragazzi hanno ballato e festeggiato interpretando le canzoni mitiche dei Beatles con la band che le ha ben interpretate. Si chiusa con la sconfitta in gara 3, la stagione della Golden Gas che viene eliminata dalla Sebastiani Rieti nella semifinale per la A2 ma resta una stagione si può dire trionfale per i colori bianco-rossi che sono arrivati al punto più alto della storia del basket cittadino. Nei video di Senigallia Notizie il saluto davvero bellissimo da parte dei tifosi bianco-rossi che con la squadra praticamente già eliminata e sconfitta di 20 punti da Rieti si alzano in piedi ed applaudono a lungo alla squadra di Gabrielli. Tutto il nuovo e usato fotografico garantito è solo da Zona Immagine e su Zona Immagine.it Canon, Nikon, Fujifilm, Panasonic, Lumix, Sony e tanto altro. Tutte le marche di fotocamere, videocamere e tutti gli accessori. Vieni a scoprire il vasto assortimento di materiale fotografico. Leonardo e Simone ti aspettano per mostrarti le occasioni del momento. Zona Immagine.it ti aspetta anche nel punto vendita di Senigallia in Via Piave 25. Le nostre rubriche. Il riepilogo del fine settimana di Una foto al giorno. Lo scatto di sabato scorso era di Roberto ricevuti dal titolo Bianco. Quello di ieri era di Mirella Baldetti dal titolo Tu chiamale se vuoi emozioni. Quello di oggi è di Roberta Bisci dal titolo Ad un soffio dal mare. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook. Alle foto con più like 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Diamo un'occhiata alle previsioni del tempo di martedì 7 di giugno sulle Marche. Cielo in prevalenza sereno e poco nuvoloso con nubi in aumento fino a cielo molto nuvoloso associato a deboli piogge in serata. La temperatura massima sarà di 27 gradi, la minima di 19. I venti saranno moderati, il mare poco mosso. Vi segnalo la farmacia di turno nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 di giugno e la farmacia Manocchi in piazza Roma a Senigallia. Grazie per averci seguito. A domani. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.